Karim Sei pronto Zombie dei qui? Odiamo a dire che... Non ti capisci, a fare un'altra zombie che è nata Guarda che lega Guarda che zombie Guarda, dove lo stiamo? Non li fai in zombie qui Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno.